Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nelle fiabe più cupe, l'orco che aggredisce i bambini vive nelle foreste remote e oscure, ma purtroppo, nella tragica dimensione del true crime, può essere un individuo a loro molto più vicino. Timothy Jones Jr. nasce a Chicago nel 1981 e cresce nel Mississippi, poi, più avanti nel tempo, si trasferisce a Lexington, nella Carolina del Sud. Timothy ha alle spalle un'infanzia travagliata, la sua storia familiare, infatti, è segnata dalle problematiche di coloro che lo hanno cresciuto. Sono tre le persone che si occupano dell'educazione di Timothy, ovvero la mamma, il papà e la nonna paterna. Come accennato, a loro volta, queste tre persone hanno vissuto un'infanzia difficile, a cominciare dalla nonna di Timothy, che si chiama Roberta. La donna, quando era molto giovane, ha subito degli abusi perpetrati per mano del suo patrigno, eventi che l'hanno chiaramente traumatizzata. Basti pensare che Roberta, a soli 12 anni, è rimasta incinta. Il bambino che ha partorito, una volta cresciuto, ha poi dato alla luce Timothy Jr. In ogni caso, Roberta, dopo la nascita del figlio, è stata costretta a sposare il suo patrigno, ma fortunatamente, all'età di 17 anni, è riuscita a scappare. Dunque, ricapitolando, Roberta è rimasta incinta a seguito delle violenze del patrigno e ha messo al mondo un bambino, Timothy Sr., che sarà il padre di Timothy Jr., il protagonista di questo caso. Timothy Sr., per i primi 5 anni della sua vita, ha vissuto a contatto con il padre biologico, un uomo violento che aveva molestato sua madre invece di accudirla come una giovane figlia. Anche se, come detto, all'età di 17 anni, Roberta è riuscita a fuggire da quell'ambiente malsano, la situazione poi torna a complicarsi. Roberta fa uso costante di alcol ed è inclina a manifestare scoppi di raviolenti. Inoltre, da bambino, Timothy Sr. è presente mentre lei aggredisce fisicamente il suo nuovo marito. Potete quindi immaginare che anche il vissuto del padre del protagonista di questa storia sia traumatico. Passiamo infine alla mamma di Timothy Jr., Cynthia. Anche lei, come la suocera da ragazzina, è stata vittima di una moltitudine di abusi e l'artifice di queste molestie è proprio suo padre. Dunque, anche Cynthia si porta dietro il peso di un vissuto traumatico e ha 16 anni quando incontra Timothy Sr. Entrambi decidono di abbandonare la scuola e di sposarsi. In poco tempo, Cynthia rimane incinta e dalla luce Timothy Jr., il protagonista del caso di oggi. Purtroppo, come accade in svariate circostanze simili a questa, il ciclo di abusi non si interrompe tra i membri del nucleo domestico. Infatti, finisce per influenzare anche la vita di Timothy Jr. Già dopo la sua nascita, Cynthia esibisce dei comportamenti discutibili. Quando Timothy piange, la sua mamma non accorre mai da lui. Piuttosto lo lascia dove è a singhiozzare disperato e non permette a nessuno di avvicinarsi al bimbo per confortarlo. Anzi, nell'intento di interrompere il pianto del neonato, Cynthia lo sottopone a dei bagni nell'acqua ghiacciata. La donna, inoltre, è molto preoccupata che Timothy diventi un bambino in sovrappeso e così sceglie di somministrargli spesso dei lassativi. Comunque, l'atteggiamento irregolare di Cynthia non si ritorce soltanto contro il figlio. Proprio come la suocera, anche lei ha importanti sbalzi d'umore, manifesta degli attacchi di ira notevoli in cui diventa violenta. Molto spesso, quando è arrabbiata, Cynthia afferra addirittura un coltello e inizia a colpire gli oggetti presenti in casa. Finché un giorno, dopo essersi svegliata, la donna prende il piccolo Timothy e scompare per mesi. Dopodiché, Timothy Sr. riesce a rintracciare la moglie e il loro bambino e, a seguito di questo comportamento di Cynthia, ottiene la custodia del figlio, che adesso ha due anni. Dopo l'evento della fuga, a Cynthia viene diagnosticata una schizofrenia, così la ricoverano in un istituto dove viene curata e trattenuta a tempo indeterminato. Cynthia, infatti, rimane in questa struttura per molto tempo. Dovranno trascorrere 20 anni prima che Timothy Jr. riveda sua madre. Quindi, per la maggior parte della vita, Timothy Jr. viene allevato da suo padre, Timothy Sr. Entrambi si sono poi trasferiti a casa di Roberta. Sia il papà, Timothy Sr., che la nonna, Roberta, si sono risposati con altri e Timothy Jr. assiste alle sfuriate che entrambi, con i loro caratteri abusivi, rivolgono contro i rispettivi nuovi partner. Per Timothy Jr. gli abusi domestici sono all'ordine del giorno, ma non solo. È presente anche mentre i membri della sua famiglia ricorrono costantemente alle sostanze, una situazione che davanti a lui viene praticamente normalizzata. Quindi, quando entra nella fase dell'adolescenza, lui stesso inizia a sperimentare le sostanze e ad abusarne. Un giorno, all'età di 15 anni, Timothy è in macchina con suo cugino, che sta guidando sotto l'effetto delle sostanze, perde il controllo del veicolo e si schianta contro un albero. A causa di questo incidente, Timothy subisce un trauma cranico e resta in ospedale per due giorni. Da questo momento in poi, la sua salute mentale peggiora. Il ragazzino inizia a soffrire di depressione, la sua personalità cambia, diventa paranoico, sente delle voci che gli altri non percepiscono e ha delle allucinazioni. Come detto, Timothy abusi già di diverse sostanze, ma dopo l'incidente ne consuma sempre di più. Poi si verificano altri due eventi significativi nella vita di Timothy. Prima di tutto, si arruola in marina. Sognava di farlo da sempre e non vedeva l'ora di assimilare la disciplina fisica impartita ai marinai. Tuttavia, rimane nelle forze dell'ordine per poco tempo. Infatti, dopo sole sei settimane, Timothy viene allontanato perché ha continuato a consumare delle sostanze stupefacenti e lo hanno scoperto. Dopo l'esperienza fallimentare in marina, Timothy si mette a rubare qualche automobile, ma anche in questo caso viene scoperto e arrestato. Una parte della sua pena detentiva consiste nel sottoporsi a un campo di addestramento molto severo, in cui deve eseguire degli esercizi fisici estremi. Arriviamo al 2003. Timothy, a questo punto, ha circa 21 anni, è appena uscito di prigione e desidera dare una svolta alla sua vita. È a questo punto che si avvicina alla religione, unendosi a una chiesa pentecostale, che ha convinzioni fondamentaliste e cristiane. Inoltre si iscrive al college, si laurea in ingegneria informatica alla Mississippi State University, dopodiché trova un lavoro ben remunerato. Sul fronte sentimentale, Timothy si innamora di una ragazza di nome Amber Kaiser. La coppia va subito d'accordo e, a distanza di poche settimane dal loro primo incontro, Timothy chiede già ad Amber di sposarlo e lei accetta. La famiglia di Timothy è fortemente contraria, perché i due ragazzi sono molto giovani e si conoscono da appena tre settimane. I parenti di Timothy lo accusano di aver fatto la proposta ad Amber, soltanto perché nella sua chiesa vengono predicate determinate convinzioni. Ad esempio, si considera assolutamente vietato fare sesso prima del matrimonio. Sono quindi convinti che Timothy si stia affrettando nel solo intento di avere rapporti con Amber. A lui però non interessa l'opinione denigrante della sua famiglia, anzi, la ignora completamente e così, sei settimane dopo il loro primo incontro, Timothy e Amber si sposano. La coppia mette al mondo tre figli. Dopo anni si sono trasferiti nella Carolina del Sud, perché Timothy ha trovato un nuovo lavoro come ingegnere presso la sede di Columbia della Intel Corporation, dove guadagna circa 80.000 dollari all'anno. Nello specifico vivono nella contea di Lexington e la roulotte di un campo caravan. All'inizio sembra tutto perfetto, Timothy ha un ottimo lavoro, è un buon padre e un bravo marito. Ma questo idilio non dura a lungo. Infatti la situazione cambia a causa del rigido codice religioso che Timothy segue. Timothy vuole imporre questi drastici precetti spirituali o morali ad Amber. Le ribadisce quotidianamente che deve diventare una moglie sottomessa, di conseguenza non può più truccarsi, tagliarsi i capelli e neanche indossare i pantaloni. Come se non bastasse, Amber ora deve lasciare il lavoro e concentrarsi soltanto sulla pulizia della casa e l'accudimento di una numerosa prole. Timothy vuole che la smetta di trascorrere il suo tempo con gli amici e altri familiari. Amber in pratica deve rinunciare alla sua identità, alla vita libera che conduceva prima di conoscere Timothy. Al contrario, lui, essendo l'uomo di casa, può fare tutto ciò che vuole. Queste rigide regole per lui non valgono affatto. E se Amber sceglie di disobbedirgli, Timothy diventa fisicamente violento nei suoi confronti. Ed ecchio che il cerchio non si chiude. Anche Timothy è diventato un uomo abusante e manesco. Arriviamo al 2011. Timothy è quasi 30 anni, i suoi bambini stanno crescendo e lui viene denunciato per la prima volta al Dipartimento dei Servizi Sociali. Circostanza che si verificherà molto spesso da questo momento in poi. In questa prima occasione, Timothy viene segnalato alle autorità a causa di un comportamento violento e instabile attuato nei confronti dei suoi vicini. Durante una discussione degenerata in una lite furibonda, Timothy ha minacciato un vicino. Di sparare al suo cane. Tuttavia, gli assistenti sociali, quando vanno a controllare la situazione personalmente, non ravvisano alcun segno di abuso fisico esercitato nei confronti dei bambini. Anche se la loro casa è un totale disastro. È sporca. Lo scarico del bagno non funziona. Le prese d'aria del rimorchio sono completamente bloccate dalla spazzatura. Il pavimento è occupato ovunque da vari sacchi pieni di immondizia. Inoltre, la roulotte ospita anche degli scarafaggi. Una presenza ancora più allarmante è quella di alcuni attrezzi pericolosi che sono alla portata dei bambini. Come è immaginabile. Anche i vestiti dei ragazzini sono sporchi. È chiaro pure che i genitori non lavano spesso i figli. Dunque, gli assistenti sociali redigono un rapporto, spiegando qual è la situazione in questa casa. Scrivono I bambini soffrono di maltrattamenti e abbandono e presentano un rischio sostanziale di lesioni fisiche. Dopo un simile resoconto per la famiglia viene predisposto un piano di sicurezza che però, purtroppo, non viene mai seguito. Le dinamiche in casa non cambiano. Anzi, peggiorano. È il 2012. Amber ha messo al mondo altri due figli, quindi ora ne ha cinque. Nel corso degli anni, gli assistenti sociali l'hanno raggiunta più volte a seguito di diverse segnalazioni. Dopo ogni visita domiciliare, si conclude che le cose devono cambiare. Viene disposto un nuovo piano di sicurezza, ma mai nessuno si assicura che venga eseguito. Non si effettuano controlli. In realtà, dovete sapere che la maggior parte delle segnalazioni non riguarda i bambini, bensì a Amber e la violenza domestica che Timothy esercita nei suoi confronti. Infatti, spesso è lei stessa a denunciarlo. In un rapporto c'è scritto che Timothy ha minacciato di rompere il collo a sua moglie davanti ai figli. In altri rapporti, è riportato che Timothy le ha sputato addosso. In un'altra occasione ancora, si evidenzia che Timothy ha dato ad Amber una testata così forte da farla svenire. In un ulteriore episodio, Timothy ha minacciato di uccidere Amber, di farla a pezzi e darla in pasto ai maiali, sempre davanti agli occhi dei loro figli. Durante l'avvenimento più allarmante, Amber ha temuto che sia lei che i suoi figli sarebbero morti. Tutto ha avuto inizio un giorno in cui la famiglia è uscita per fare la spesa. Timothy e Amber hanno iniziato a litigare e hanno continuato a discutere anche in macchina mentre tornavano a casa, con i bambini seduti sui sedili posteriori. Timothy, guidando fin troppo velocemente, si è rivolto ad Amber dicendole Vuoi giocare? Dall'altra parte della strada c'era un mastodontico camion a 18 ruote. Timothy gli si è avvicinato e ha sterzato l'auto invadendo la corsia opposta, assicurandosi che solo il lato del passeggero fosse allineato con il camion. Amber e i bambini hanno iniziato a urlare, la donna ha implorato il marito di fermarsi, ma lui ha continuato a ridere e a correre verso il camion. Poi, soltanto all'ultimo secondo, ha deviato di nuovo sul lato destro della strada. In pratica, per una questione di secondi, non hanno subito un gravissimo incidente, probabilmente mortale. Più il tempo passa, più Timothy diventa violento e, come detto, le numerose segnalazioni fatte ai servizi sociali generano una visita e l'elaborazione di un piano di sicurezza che non viene mai attuato o monitorato. Nulla cambia. Arriviamo all'estate del 2012, Amber a questo punto ne ha abbastanza. Dopo anni di abuso, di isolamento da tutti i suoi cari, di manipolazioni e rinunce, persino quella della propria identità, inizia una relazione con un vicino di casa. Timothy però lo scopre non molto tempo dopo e si infuria perché si aspettava che Amber restasse una moglie sottomessa per sempre. Così raccoglie tutte le proprie cose, fa le valigie e parte, portando via con sé tutti e cinque i figli. Timothy torna in Mississippi per vivere vicino alla sua famiglia, mentre Amber resta nella Carolina del Sud. Timothy le impedisce di vedere i bambini e, alla fine, chiede il divorzio e la custodia di tutti e cinque i figli. Nell'esporre alle autorità i motivi della sua scelta, Timothy afferma che Amber aveva una relazione con un altro uomo e che non era capace di tenere in ordine la casa. Dice anche che Amber aveva fatto delle scelte di vita sbagliate. Amber lotta, prova con tutta sé stessa a ottenere la custodia dei figli, ma le risulta difficile. Ormai, a causa delle impostazioni di Timothy, non ha più un lavoro e non ha abbastanza soldi per assumere un buon avvocato. Inoltre pensa che nessuno l'aiuterà perché non sente più né i suoi amici né la sua famiglia da tempo e dato che Timothy gli aveva ordinato di tagliare tutti i legami coltivati durante la sua vecchia vita. D'altro canto, Amber crede in parte che Timothy sarà un buon padre, che si prenderà cura dei bambini, i quali probabilmente cresceranno meglio con lui, visto che ha un lavoro ben pagato. La donna sa che senza una discreta entrata economica non può accudire cinque figli. Così conclude che loro sarebbero stati più felici insieme al padre. Alla fine del 2013 Timothy vince la causa e ottiene la custodia di tutti i cinque bambini, mentre ad Amber viene concesso di andarli a trovare ogni fine settimana e in alcuni giorni festivi. A questo punto Timothy e i bambini si trasferiscono di nuovo nella Roulotte a Lexington, nella Carolina del Sud, dove ovviamente Amber non vive più. Timothy quindi cresce da solo i cinque figli, che sono Mera, di otto anni, Elia, di sette anni, Nathan, di sei anni, Gabriel, di due anni, infine Elaine, di un anno. L'uomo adesso manda i figli a scuola perché in precedenza i bambini venivano istruiti a casa da Amber, anche se lei non aveva qualifiche in merito e non si sentiva a suo agio nel far loro da maestra. Per quanto riguarda l'accudimento dei figli in casa, Timothy decide di assumere delle babysitter. Intanto il suo terribile comportamento non fa altro che peggiorare perché consuma sempre più sostanze e alcol, diventa sempre più instabile e, ormai, è anche fisicamente violento nei confronti dei bambini. Infatti Timothy impone i loro limiti e metodi di punizione più severi, che prima concentrava essenzialmente su Amber. Abusava fisicamente di lei, la controllava ossessivamente, ma, per quanto si sa, i bambini non avevano mai sofferto per mano di Timothy. Ora però Timothy non può più sfogare le sue frustrazioni su Amber, quindi le riversa completamente sui figli. Se i bambini fanno qualcosa di sbagliato, o che Timothy ritiene sbagliato, vengono costretti a svolgere degli esercizi fisici estremi, probabilmente gli stessi che Timothy aveva dovuto sostenere nel periodo in cui era stato in prigione. Dunque, obbliga i ragazzini a praticare centinaia di flessioni e squat, o a stare in punta di piedi per ore. E vi ricordo che la bambina più grande ha soltanto otto anni. Se Timothy però non è soddisfatto, se secondo lui i bambini non hanno imparato a dovere la lezione, allora ricorre pure alla violenza fisica. Alcune volte l'uomo trascina i figli in giro per casa, li frusta ripetutamente, li soffoca quasi, li prende di peso e li lancia contro i muri, infine li punisce con la privazione del cibo. Quasi sempre, se ricevono un solo pasto al giorno, devono ritenersi fortunati. Timothy li nutre soprattutto con la sola farina d'avena. Poi di tanto in tanto rientra a casa con qualche acquisto fatto da McDonald's, ma si limita a comprare una porzione di crocchette di pollo che i cinque bambini devono condividere. Quindi, in pratica, se mangiano due crocchette di pollo a testa, è pure tanto. La situazione sta diventando insostenibile. Timothy ora sta maltrattando e trascurando i suoi figli in modo davvero estremo. E la gente della zona lo sa bene, perché Timothy non si preoccupa di nascondere o camuffare le sue cattiverie. I bambini vanno all'asilo o alle scuole elementari con evidenti lividi in faccia o tagli sulle braccia. Le insegnanti chiedono loro come se li siano procurate e i ragazzini rispondono apertamente che è stata opera del padre. I docenti, ovviamente, segnalano Timothy ai servizi sociali e in un'occasione una maestra afferma di aver visto un livido grande quanto una mano su uno dei bambini. Ma purtroppo nemmeno questo rapporto serve a qualcosa. E non sono soltanto le insegnanti dei cinque bambini a notare gli abusi che subiscono, bensì anche le babysitter che Timothy ha assunto. In un'occasione la famiglia va a Disneyland e durante il viaggio in macchina i bambini sono comprensibilmente un po' irrequieti. Timothy, seccato per questo, accosta l'auto e fa eseguire i figli degli squat sul lato della strada per punizione. Per di più, quando arrivano all'hotel la babysitter che è con loro vede Timothy sculacciare a lungo e con cattiveria i suoi figli. Questa babysitter si spinge addirittura a dare da mangiare ai bambini di nascosto. Infatti loro la pregano di non dire niente al padre altrimenti, di certo, lui li avrebbe privati del cibo per tutto il resto della giornata. La babysitter acconsente, ma cerca di affrontare il discorso con Timothy con calma, provando a parlargli di come nutri i suoi figli, sostenendo che negare loro il cibo non è il modo giusto per disciplinarli. Tuttavia, ogni volta che lei accenna a questa questione, Timothy si arrabbia e le dice che quelli sono i suoi figli e che dunque li educa come vuole lui. Anche la babysitter, dopo un po' di tempo, fa rapporto ai servizi sociali e più volte, ma non viene intrapreso alcun provvedimento concreto. In un'occasione, un paio di assistenti sociali fanno visita di nuovo ai bambini e vedono con i loro occhi i lividi che segnano i loro corpi. Eppure, inspiegabilmente, il caso viene chiuso senza conseguenze per Timothy. Ora, io mi chiedo a cosa servono gli assistenti sociali se non fanno il loro lavoro. Questo è un caso molto triste, perché i protagonisti sono dei bambini innocenti che vengono maltrattati e le autorità competenti avrebbero potuto intervenire molto prima, fin da quando Amber stava ancora con Timothy. Ora, purtroppo, la situazione si è complicata, ma nonostante ci siano dei segni evidenti di maltrattamenti su minori, nessuno ancora fa nulla. In casi analoghi a questo, gli amici spesso non sono così evidenti. Ad esempio, lo abbiamo visto nel video che ho pubblicato sul caso di Ruby Frankie. Se ricordate, lei sapeva che gli assistenti sociali sarebbero andati a controllare il suo operato in qualità di mamma, quindi ha fatto in modo che tutti i suoi figli apparissero sereni e felici. Ma qui siamo in presenza di un caso diverso dove gli amici sofferti dai piccoli sono visibili davanti agli occhi degli adulti che dovrebbero intervenire per proteggerli e che invece non agiscono. Ci sono state tante, davvero tante opportunità per il Dipartimento dei Servizi Sociali di salvarli. Tutti sanno che Timotino è una brava persona. Amber è stata la prima a mettere in evidenza questa situazione preoccupante, ma non è stata l'unica. Come detto, a lei si sono aggiunte anche le insegnanti dei bambini e una delle babysitter. Questi bambini hanno bisogno di un intervento immediato, devono essere allontanati da quella casa. Pensate che gli assistenti sociali sono stati contattati 12 volte, quindi non hanno colto ben 12 opportunità per fare qualcosa di sensato e doveroso. Perché? Davvero mi chiedo perché nessuno ha preso quei bambini e li ha portati in un posto sicuro. Perché? Purtroppo non emergono fonti che spieghino esattamente quale fine avesse fatto Amber in questo periodo, ma è noto che Timoti faceva del suo meglio per impedirle di vedere i bambini. Alcune fonti riportano che le permetteva di chiamarli ogni notte, ma chissà, forse manipolava quelle conversazioni, così come aveva manipolato e terrorizzato la sua ex moglie in passato. Arriviamo all'agosto del 2014, quando viene fatta un'altra chiamata al Dipartimento dei Servizi Sociali, sempre per riferire che Timoti ha aggredito fisicamente i suoi bambini nella propria casa. Ancora una volta, un assistente sociale si reca presso il domicilio di Timoti, scoprendo che uno dei suoi figli ha un taglio sopra l'occhio. L'assistente sociale chiede spiegazioni all'uomo e lui risponde che il figlio si è procurato quel taglio sbattendo la faccia contro la maniglia di una porta. Timoti, tra l'altro, dice all'assistente sociale che la babysitter lo aveva denunciato perché lui l'aveva licenziata e lei aveva voluto vendicarsi così. L'assistente sociale, però, nota anche che i bambini sono a dir poco affamati e che riportano dei libidi chiaramente dovuti a delle percosse. Per di più, ascoltate bene, lo stesso Timoti dice apertamente all'assistente sociale che non vuole più mandare i suoi figli in una scuola pubblica perché i loro insegnanti continuano a segnalarlo al dipartimento degli assistenti sociali. Dunque, dopo aver visionato la situazione, quest'assistente sociale redige un rapporto e scrive che i bambini stanno morendo di fame, che vengono picchiati e hanno dei libidi visibili anche in faccia. Eppure, la conclusione dell'assistente sociale dopo questa visita ghiacciante è la seguente. Il padre sembra essere sopraffatto, non è in grado di provvedere alla casa, ma i bambini appaiono puliti e vestiti in modo appropriato. Ora, io mi chiedo, con che coraggio questa professionista è giunta a un epilogo del genere senza dare peso alle condizioni davvero allarmanti che ha potuto verificare in prima persona? E indovinate un po'? Di nuovo, non viene intrapresa alcuna ulteriore azione. Intanto però i bambini si sono fatti sentire, infatti hanno detto chiaramente che non vogliono più vivere con il padre, ma con la mamma. Timoti quando lo viene a sapere si indigna tantissimo e inizia persino a pensare che i bambini stiano cospirando contro di lui per abbatterlo. E questo è davvero assurdo. I suoi bambini sono ancora molto piccoli, hanno tra 1 e 8 anni. Come possono a questa età mettersi a complottare insieme per distruggere uno dei loro genitori? Emerge a questo punto che Timoti è un soggetto particolarmente paranoico e non sono stupita viste le sue assurde convinzioni. Arriviamo al 28 agosto del 2014 quando Timoti trova suo figlio Nathan che ha 6 anni che gioca vicino a una presa elettrica. Il pensiero irrazionale di Timoti lo porta a credere che il bambino stia agendo così nell'intenzione di fargli un danno. Ad esempio per farlo screditare ulteriormente come figura genitoriale, come padre disattento che permette ai suoi figli di ferirsi. Così Timoti impone a Nathan che vi ricordo ha appena 6 anni la solita dura punizione. Lo obbliga a eseguire una sessione estenuante di flessioni e squat ma una volta terminata la prima sequenza di faticosi esercizi Timoti costringe Nathan a rincominciare da capo. Il bambino è ormai esausto disidratato sfiancato dunque rallenta un po' il ritmo mentre esegue gli esercizi. Allora Timoti lo frusta obbligandolo a continuare ancora e ancora. Nathan ripete questi esercizi per ore mentre implora suo padre di lasciarlo smettere ma in tutta risposta Timoti lo picchia. Gli esercizi quindi proseguono finché il bambino crolla a terra. Timoti a questo punto prende in braccio Nathan lo porta nella sua stanza lo mette a letto e lo lascia lì. E ora ahimè si verifica il primo irreversibile tragico risvolto delle azioni di questo padre. Quando Timoti torna a controllare Nathan un paio d'ore dopo si rende conto che il bambino è venuto a mancare a causa del suo stato di grave disidratazione. Onestamente mi si spezza il cuore nell'affrontare questa notizia è davvero straziante. Riuscite a immaginare quanto dolore deve aver provato il piccolo Nathan? È impossibile per me non paragonare questo caso a quello di Ruby Frankie anche se fortunatamente nessuno dei suoi figli è morto. In ogni caso quando Timoti ritrova Nathan senza vita si fa travolgere dal panico più che dal dolore. Sa di essere in guai seri di certo verrà perseguito dalla giustizia per questo quindi inizia a valutare varie opzioni per tentare di farla franca. Per prima cosa effettua una ricerca su Google finendo per guardare un video sulle violenze carnali in prigione. si presume l'abbia fatto per farsi un'idea di come potrebbe essere la sua vita in carcere. Poi pensa agli altri suoi quattro figli che si sarebbe preso cura di loro se fosse finito in cella? La risposta è quasi ovvia Amber i bambini sarebbero stati affidati alla loro madre e Timothy non può sopportare il pensiero che lei avrebbe ottenuto la custodia dei figli vuole impedire ad ogni costo che spetti ad Amber crescerli. Timothy quindi arriva alla diabolica conclusione che l'unico modo per raggiungere il suo obiettivo è uccidere anche gli altri quattro bambini così Timothy decide di portare fuori i suoi quattro figli per poi strangolarli a morte. I due bambini più grandi Mera e Elias li soffoca con le sue stesse mani quanto a Gabriel ed Elaine i due bimbi più piccoli li strozza con una cintura perché le sue mani sono troppo grandi per avvolgere il loro collo è terribile inoltre purtroppo spostandosi in giro tutti insieme alcuni bambini hanno intuito che la stessa orribile sorte li avrebbe accomunati dopo aver compiuto questi spietati omicidi Timothy ha in mente soltanto una cosa l'autoconservazione non mostra alcun rimorso per i suoi orrendi crimini l'unica cosa a cui pensa è insabbiare i delitti per passarla liscia prima di tutto manda un messaggio alla babysitter in cui le scrive che lui e i bambini si troveranno fuori dallo stato per qualche giorno quindi non ha bisogno dei suoi servizi poi inizia a cercare dei campeggi utilizzando Google avvolge i corpi di tutti e cinque i suoi figli dentro grossi sacchetti di plastica nera li cosparge di candeggina per coprire l'odore della decomposizione li carica nel bagagliaio della sua automobile e guida fino a uscire dallo stato verso l'Alabama riprende le sue ricerche su Google nel tentativo di comprendere quali paesi hanno in vigore le leggi sull'estradizione per evitare il processo legale attraverso il quale chi è accusato di un reato può essere consegnato al paese che richiede la sua presenza per affrontare le accuse penali Timothy effettua delle ricerche anche su come sbarazzarsi di un cadavere e prende in considerazione pure l'idea di togliersi la vita ma alla fine si tira indietro perché sa che all'altro mondo di certo non lo attende il paradiso Timothy sta guidando senza meta e continua a farlo per giorni indeciso su cosa fare alla fine abbozza in forma scritta il progetto di un piano e scrive giorno 1 brucia i corpi giorno 2 fai sparire le ossa giorno 3 dissolvi le chimicamente viene anche immortalato dalla telecamera di un ipermercato Walmart dove compra delle seghe delle maschere antipolvere degli occhiali protettivi e un secchio di plastica da 5 galloni poi Timothy si isola e inizia a smembrare i corpi comincia con quello di Nathan ma si rende conto che non può farcela da solo così decide di abbandonare tutti e 5 i cadaveri ancora contenuti nei sacchetti di plastica in una zona boschiva è il 6 settembre del 2014 Timothy è in fuga da 8 giorni e non si sa quale sia il giorno esatto in cui si è sbarazzato dei resti dei suoi figli perché per circa una settimana hanno viaggiato nel retro della sua macchina intanto molte persone hanno denunciato la scomparsa di Timothy e dei suoi 5 figli compresi i membri della famiglia della babysitter e Amber quindi le autorità lo stanno cercando e alla fine riescono a rintracciarlo Timothy viene fermato da alcuni agenti di polizia mentre viaggia attraverso il Mississippi poco dopo aver lasciato il confine dell'Alabama perché sospettano che stia guidando in stato alterato cosa tra l'altro vera dato che Timothy è completamente ubriaco ebbene quando questi agenti inseriscono i suoi dati nel loro sistema scoprono che Timothy è ricercato nella Carolina del Sud perché probabilmente sta compromettendo il benessere dei suoi figli così i poliziotti decidono di perquisirgli la macchina non intravedono bambini nella vettura ma riferiscono di aver sentito puzza di morte inoltre individuano tracce di sangue e dei vermi nell'auto il retro del veicolo invece contiene della candeggina e dei vestiti per bambini Timothy quindi viene immediatamente arrestato e portato alla stazione di polizia durante l'interrogatorio spiega in che condizioni ha trovato il corpo di Nathan nella sua camera da letto e afferma che poi ha deciso di uccidere tutti gli altri figli aggiunge di aver sentito delle voci che gli hanno ordinato di ammazzare i suoi bambini inoltre lui ne è certo i suoi figli stavano cospirando contro di lui ecco perché ha dovuto eliminarli afferma inoltre che gli omicidi non erano premeditati beh allora a mio avviso l'unico delitto non pianificato è stato quello di Nathan sebbene lo abbia volutamente portato allo stremo ma indubbiamente ha progettato di uccidere gli altri quattro figli dopo la morte del terzo genito la premeditazione infatti non si configura soltanto quando un assassino pianifica di uccidere qualcuno per settimane ma l'azione può essere stata stabilita anche dieci minuti prima se c'è l'intenzionalità di uccidere c'è anche la premeditazione comunque dopo la confessione Timothy conduce gli agenti nel luogo dove ha abbandonato i resti dei suoi figli la polizia individua i corpi senza vita all'interno di quei sacchetti di plastica e in stato di decomposizione neanche in questo momento Timothy dimostra un briciolo di rimorso a distanza di cinque anni nell'aprile del 2019 Timothy viene processato per i suoi crimini si dichiara non colpevole perché afferma di non essere in grado di intendere e di volere l'imputato sostiene di essere affetto da una schizofrenia non diagnosticata malattia di cui soffriva sua madre quindi non era in grado di distinguere il bene dal male ciò che è giusto e ciò che invece è sbagliato al momento degli omicidi a contraddirlo durante il processo è uno psichiatra che è giunto alla conclusione che Timothy sapeva sia legalmente che moralmente che quello che stava facendo era profondamente sbagliato l'imputato non soffre di schizofrenia piuttosto sta fingendo di accusare i sintomi di questo disturbo mentale l'accusa spiega che Timothy sta adottando delle misure deliberate per nascondere ciò che ha fatto consapevolmente e questo lo dimostrano le sue ricerche su Google anche le azioni che ha intrapreso dopo l'omicidio infatti rivelano che Timothy sapeva cosa era giusto e cosa era sbagliato fare dunque anche qualora Timothy avesse dei problemi di salute mentale che possono avere influenzato il suo comportamento in certe circostanze l'evidente responsabilità penale rimane l'aspetto fondamentale nelle questioni legali dopo sei ore di deliberazione la giuria si mostra concorde con la visione dell'accusa infatti ritiene Timothy Jones Jr. colpevole di tutti e cinque gli omicidi il 13 giugno 2019 Timothy viene condannato a morte non si sa ancora quando sconterà la pena capitale per adesso è incarcerato in attesa di esecuzione dopo il processo anche le mancate azioni del dipartimento dei servizi sociali vengono indagate viene pubblicato un rapporto in cui si afferma che i dipendenti dei servizi sociali della Carolina del Sud non erano abbastanza qualificati che il loro carico di lavoro era eccessivo e che il sistema era inadeguato anche Amber decide di denunciare il dipartimento dei servizi sociali per i loro ripetuti fallimenti nel compito di tutelare i suoi figli la responsabilità dei crimini ovviamente resta di Timothy un individuo estremamente problematico era nato in un ambiente dove gli abusi rappresentavano una piega perenne del suo tessuto familiare da ragazzino maltrattato era diventato lui stesso un uomo abusante Timothy però aveva avuto molte opportunità per dare una svolta alla sua vita era un ragazzo che aveva studiato al college e si era laureato che aveva trovato un ottimo lavoro e aveva creato una famiglia numerosa con moglie e cinque figli dunque possedeva gli strumenti per interrompere quel ciclo di abusi o quantomeno per sottoporsi a delle cure adeguate forse se le sue alterate malinterpretate idee religiose non fossero state così presenti nella sua vita probabilmente avrebbe continuato a stare insieme a sua moglie ma Timothy quella donna l'ha distrutta l'ha isolata maltrattata e poi abbandonata le ha reso impossibile vedere i suoi figli in pratica cinque bambini innocenti hanno tragicamente perso la vita per mano del primo uomo sulla faccia della terra di cui avrebbero dovuto potersi fidare il loro papà e questo ci porta alla fine del video di oggi e quindi alla fine del caso di oggi sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate di questo caso e se lo conoscevate già io non lo conoscevo e lo trovo terribile davvero terribile come puoi arrivare ad uccidere i tuoi cinque figli perché non vuoi che tua moglie se ne prenda cura è assurdo è totalmente assurdo davvero questo caso è terribile sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate voi quindi come al solito vi invito a lasciare le vostre opinioni qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.